In questo video parleremo della Nikon, secondo voi sta veramente per fallire? Secondo me no, secondo me no. Con questo video non ho intenzione di influenzare nessuno, tutto ciò che sostengo è riscontrabile da dati oggettivi rintracciabili su siti web di finanza piuttosto che sul sito della Nikon. Ci tengo a sottolineare che questa è una breve, non approfondita e sottolineo non approfondita analisi di bilancio che mi ha permesso di capire quello che è il presente dell'azienda Nikon ma soprattutto quello che potrebbe essere il futuro. Oggi vi parlerò di un argomento che mi resta molto a cuore perché essendo utente Nikon ho la volontà e la curiosità di sapere quello che è effettivamente il presente da un punto di vista economico finanziario dell'azienda giapponese ma soprattutto cercare di capire quello che potrebbe essere il futuro dell'azienda Nikon. Tutto è partito dalla pubblicazione di un articolo su Bloomberg, una famosa testata di economia e finanza che troviamo appunto anche sul web dove è stato pubblicato questo articolo che decantava sostanzialmente tagli per mille unità nelle aziende Nikon, un piano lacrime e sangue che prevedeva addirittura una ristrutturazione di 48 miliardi, quindi costi veramente a destra manca una sorta di capolinea per la nostra società di macchine fotografiche e anche altro come vedremo fra poco e quindi diciamo da proprio da questo articolo è partito il panico generale o la Nikon sta licenziando migliaia di persone o aspetta la Nikon addirittura di sicuro è al capolinea, quindi se ne dette di tutti i colori sui social network e addirittura anche blog di fotografia hanno riportato la notizia mettendo il carico da 50 dicendo addirittura che la Fujifilm dovrebbe sotto consiglio del governo giapponese comprare azioni Nikon per evitare il fallimento. Ci arriveremo, ne parleremo. Quindi io mi sono detto perché no andiamo a fare una piccola analisi di bilancio, cerchiamo di capire sotto un aspetto economico finanziario quello che potrebbe essere il futuro della Nikon ma soprattutto cerchiamo di capire qual è il presente di Nikon. Ora premetto che questo tipo di video magari verterà un po' più su un aspetto economico finanziario però cercherò di spiegarvi il tutto con parole veramente semplici e con concetti facili da capire, molto intuitivi. Visto che Nikon è una società quotata in borsa ha l'obbligo di legge di pubblicare tutta la documentazione che fa riferimento all'andamento economico gestionale dell'anno in questione appena chiuso, quindi il 2016. Se noi andiamo sul sito nella sezione Investor Relations troviamo sicuramente i bilanci ma anche tutta un'altra tipologia di documentazione che in genere le società quotate in borsa redigono per catturare l'attenzione degli investitori e quindi cercare di approvvigionarsi sul mercato azionario. Premesso che una corretta analisi di bilancio prevede anche un'analisi di quelli che sono i competitors, quindi Sony, Panasonic, Fujifilm, Canon e così via, io non ho fatto questo tipo di passaggio perché non ho avuto il tempo e sinceramente non mi interessava neanche più di tanto perché mi volevo focalizzare unicamente sul Nikon. E' vero anche che una corretta analisi di bilancio deve essere estesa temporalmente a più esercizi e invece mi sono limitato soltanto a vedere le variazioni di bilancio che ci sono state nel precedente esercizio, quindi nell'esercizio 2015 con la presentazione del bilancio 2016 e la chiusura attuale dell'esercizio 2016 con la presentazione del bilancio nel 2017. Il primo aspetto da tenere in considerazione sicuramente è l'ultimo rigo di bilancio, però premetto che non ci si deve mai e poi mai fermare all'ultimo rigo di bilancio, quindi attenzione perché la Nikon di fatto, se analizziamo l'ultimo rigo di bilancio, ha chiuso con una perdita di 7 miliardi di yen. Però anche qui attenzione perché la Nikon redige il bilancio con i principi contabili internazionali e quindi abbiamo una suddivisione del conto economico in due parti, in due porzioni. I principi contabili internazionali prevedono la suddivisione del conto economico in profit e loss, cioè i ricavi e i costi effettivamente realizzati che di fatto portano poi a un utile o una perdita effettivamente realizzata, 7 miliardi di yen per Nikon circa, e una seconda porzione che è quella della Other Comprehensive Income o più comunemente detto OCI, cioè tutta la parte delle entrate e delle uscite che ancora non si sono realizzate e quindi si realizzeranno, è una specie di calderone che ricomprende tutte queste entrate e uscite, che è tutti questi costi, scusate, e ricavi che si realizzeranno in esercizi futuri probabilmente. Quindi se noi analizziamo anche l'OCI di Nikon, di fatto io leggo 9 miliardi circa, quasi 10, di yen di entrate e uscite sotto forma di ricavi e costi non ancora realizzati. Quindi al netto di tutto, se considerassimo anche l'effettiva realizzazione, che purtroppo non è venuta in questo esercizio ma che potrà avvenire negli esercizi futuri per Nikon, diciamo l'effetto non sarebbe negativo, anzi in realtà l'azienda avrebbe chiuso con un netto di circa 2 miliardi di yen. Quindi tutta la realizzazione di questi ricavi e di questi costi che magari verrà traslata a esercizi successivi permetterà a Nikon di recuperare almeno parzialmente questa perdita, io spero totalmente, ma almeno parzialmente, questa perdita avvenuta nel 2016. Premesso che il discorso appena concluso fa riferimento a un bilancio consolidato, ovvero sia Nikon è un gruppo veramente esteso, composto da tantissime società che alla fine dell'anno deve chiudere un bilancio consolidato, cioè mettere assieme tutti i conti di queste società e ridigere un unico bilancio, a noi ci interessa solo e unicamente il comparto fotografia. Ora, Nikon, come ben saprete, è un grandissimo gruppo. Un grandissimo gruppo che si occupa di aspetti anche trasversali e completamente diversi fra loro, perché se noi andiamo ad analizzare la documentazione della casa giapponese, vediamo che Nikon è invischiata, cioè opera veramente in settori diametralmente opposti, per esempio il settore medico, piuttosto che il settore di tutta la strumentazione di precisione, oppure ancora il settore della fotografia, che per anni è sempre stato il settore core, cioè il business principale della nostra azienda, e poi abbiamo anche altre piccole entrate derivanti da altri settori un po' più limitrofi e di scarso interesse. Dunque, dal 2013 al 2017 il dato è piuttosto preoccupante, concentrandosi appunto sulle vendite relative alle macchine fotografiche o comunque agli obiettivi e tutti gli accessori connessi, abbiamo che le vendite nette e quindi i ricavi netti di fatto della nostra società sono andati calando da circa 700 miliardi di yen a 300 miliardi di yen. Veramente un qualcosa di molto molto preoccupante. Il forte calo quindi delle vendite del settore fotocamere ha condizionato moltissimo l'azienda in questione. E soprattutto questo forte calo delle vendite, sempre per quanto riguarda la fotografia, si è concentrato moltissimo in Europa con circa un dimezzamento, anzi un dimezzamento dei ricavi netti, e si è registrato anche in America con un forte calo. In realtà però Nikon si è sviluppata un pochino di più nei mercati asiatici, con particolare attenzione al mercato cinese. Visto che comunque Nikon purtroppo ha chiuso l'esercizio in perdita, mi aspetterei, e quindi andiamo ad analizzare questo aspetto, sicuramente un maggiore interesse, una maggiore spesa per quanto riguarda le spese di ricerca e sviluppo, nonché gli investimenti in beni materiali e materiali per cercare di rilanciare la società. Effettivamente questo c'è stato da parte di Nikon. Infatti se andiamo ad analizzare tutto l'aspetto che fa riferimento al settore R&D, cioè Research and Development, abbiamo che in valore assoluto, attenzione, in valore assoluto, il calo dei costi, cioè degli impieghi di Nikon in questo settore è stato abbastanza rilevante. In passato si erano registrati impegni di Nikon per circa 76 miliardi di yen, ad oggi abbiamo un impegno effettivo nel Research and Development di 63 miliardi di yen. Questo potrebbe far alzare le antenne a chi magari non è accorto, perché di fatto questo calo dei costi nella ricerca e sviluppo deve essere anche comparato al calo delle entrate che purtroppo la Nikon ha dovuto sostenere. E quindi se noi andiamo ad analizzare invece questo aspetto fondamentale del bilancio, quindi la ricerca e sviluppo, insieme a quelli che sono stati i ricavi netti dell'anno, e quindi andiamo a percentualizzare, a utilizzare dunque una frequenza relativa per confrontare gli anni, vediamo effettivamente che Nikon ha aumentato il suo impegno, perché nonostante abbia diminuito i propri ricavi netti, come vi ho appena detto in precedenza, ha comunque tenuto percentualmente un impiego di denaro, quindi costi, per ricerca e sviluppo veramente costante, se non leggermente in crescita rispetto agli anni passati. Quindi sotto questo punto di vista Nikon forse forse sta, diciamo, migliorando, e sta cercando di tenere il passo con l'innovazione tecnologica, cosa che invece purtroppo non registra con il capital expenditure, cioè tutte le spese che sostiene Nikon per andare a sviluppare tutto il suo comparto di beni materiali, immateriali, con l'acquisto di nuovi macchinari, piuttosto che di nuove licenze, brevetti e così via. E secondo me questo non è un ottimo, dovrebbe essere un campanello d'allarme, non è un ottimo segnale. Un altro aspetto fondamentale su cui ci dobbiamo soffermare è sicuramente quello finanziario e dei debiti che la nostra azienda ha registrato nello stato patrimoniale consolidato. Ora, gli inglesi sono molto più bravi di noi nei proverbi, perché cash is king, quindi il denaro è veramente importante per un'azienda, soprattutto di questo periodo, dove tutte le analisi di bilancio, tutti gli analisti, si stanno spostando sempre di più effettivamente su quello che è il denaro che ha l'azienda in casa, piuttosto che nei vari ovviamente conti correnti e così via. Ecco, Nikon sotto questo punto di vista è migliorata tantissimo, perché nell'esercizio appena chiuso registra un aumento del cosiddetto free cash flow o il flusso di cassa operativo, cioè tutte le entrate che Nikon riesce ad immagazzinare in relazione alle vendite che derivano dalla propria operatività, cioè Nikon a livello operativo produce macchine fotografiche, materiale medico, strumenti di precisione e quant'altro. Ecco, dalla vendita di questi prodotti, che sono i suoi core business, di fatto i suoi business principali in cui opera, Nikon è riuscita a immagazzinare molto di più e aspetto fondamentale, di cui magari ne parleremo successivamente, è riuscita nel corso del tempo ad aumentare anche la renditività dei propri prodotti, cioè è riuscita ad essere molto più efficiente. Se quindi vado a confrontare questo lato di bilancio, cioè il free cash flow, il flusso di cassa operativo, con quello che invece è lo stato patrimoniale consolidato, che ho qui con me, devo purtroppo farvi presente che i debiti a lungo termine sono aumentati e direi anche abbastanza, quindi in maniera molto molto vertiginosa. Mentre invece per quanto riguarda le obbligazioni abbiamo avuto un leggero caldo di circa 10 miliardi di yen. Ora, quello che mi preme far presente è che non ci dobbiamo assolutamente spaventare per l'aumento di questa situazione debitoria. Uno, perché in cassa comunque abbiamo molti più soldi rispetto all'anno scorso, circa 100 miliardi in più se non ricordo male, e due, se andiamo sempre sul sito della Nikon, troviamo una pagina fondamentale che è quella che fa riferimento al rating. Quindi cerchiamo di capire quella che è l'assolvibilità e la solidità della nostra azienda. Quindi dal punto di vista dell'assolvibilità, sicuramente l'ampio e ingente quantitativo di denaro che presenta, tra virgolette, in cassa Nikon è, diciamo, rassicurante. Per quanto riguarda invece tutto l'aspetto a medio e lungo termine, i rating che ci forniscono la Japan Credit Rating Agency e comunque anche l'agenzia Rating and Investment Information sono molto molto buoni. Quindi dal punto di vista del long term, dei debiti a lungo termine, Nikon ha un, per quanto riguarda la Japan Credit Rating Agency, rating di A+, che sostanzialmente lo dovete situare, se non ricordo male, in una scala che va dalla AAAD, spazzatura, alla AAAA, il paradiso. Ecco, poi abbiamo anche un rating sul short term debt, cioè i debiti a breve termine. Ecco, sono praticamente massimi, perché J1 e A1, rispettivamente per la Japan Credit Rating Agency, e la Rating and Investment Information sono J1 e A1 i rating massimi. Quindi, al netto della nostra analisi finanziaria, quindi denaro e debiti, quindi un'analisi, ripeto, molto blanda, ma che ci focalizza, diciamo, ci permette di analizzare i punti fondamentali, dobbiamo stare molto tranquilli, perché Nikon è un'azienda solida al momento. E sottolineo al momento. Ricollegandomi a quell'articolo di Bloomberg che vi avevo fatto vedere all'inizio video, vorrei parlarvi dei licenziamenti, che effettivamente non sono stati di mille unità. Delirio totale, panico totale. No, sono stati di circa 700 dipendenti, che sono comunque tanti, perché l'articolo parlava di una previsione. Poi a consuntivo, quindi a chiusura dell'esercizio, effettivamente la variazione è stata di 698 dipendenti, che per la maggior parte sono stati licenziati outside Japan, quindi fuori dal Giappone. Ora, in realtà, non dobbiamo parlare solo di licenziamenti, perché avevamo visto anche tutti quei costi straordinari legati alla ristrutturazione, che, come vi avevo detto, erano di circa anticipati 48 miliardi di Yen, in realtà è stato molto molto peggio. Perché i costi legati a questa ristrutturazione aziendale, a consuntivo registrati, sono 53 miliardi. 53 miliardi, scusate. Quindi, dobbiamo prestare molta attenzione, perché, di fatto, anche all'interno del bilancio, si dà nota di come ci siano stati, ovviamente, dei licenziamenti, e vi ho appena detto che sono stati di 698, ma probabilmente, e anzi vi dico io sicuramente, una buona quota parte di questi 698 fa riferimento ai cosiddetti scivoli, cioè, Nico, un'offerto agli soggetti più vicini al pensionamento, ehi, amico, vai in pensione, vai un pochino prima in pensione, così io risparmio sui salari e sui contributi che da versare agli antiprevidenziali. E questo, ripeto, è stato certificato anche nel fascicolo di bilancio, dove troviamo, nella tabellina che dettaglia quelle che sono state le spese di ristrutturazione aziendale, anche la voce costi, diciamo, tra virgolette straordinari, legati al prevenzionamento volontario dei dipendenti. Quindi, cosiddetto scivolo, ok? E comunque riguarda una buona fetta di questi 53, 51, quant'erano, miliardi di spese per ristrutturazione, in quanto questa porzione occupa circa 16 miliardi di yen. Sempre in riferimento a questi 53 miliardi di yen relativi alla ristrutturazione aziendale, dobbiamo far presente che ci sono altre spese legate, per esempio, alle perdite relative alla cessazione di produzione di macchine fotografiche, per lo più, o di alcuni prodotti. Però, ecco, magari per i più attenti, vi ricorderete sicuramente che la Nikon tempo fa ha deciso di stoppare tutto il processo di produzione delle Nikon DL, se non ricordo male, cioè delle macchine fotografiche compatte professionali. Ecco, quello potrebbe essere un riflesso che ritroviamo qua, in questi 7 miliardi di costi aggiuntivi, quindi derivanti dalla cessazione e quindi anche dai relativi ricavi stimati delle vendite di materiale proveniente da casa Nikon. Infine, in relazione al bilancio, possiamo analizzare tutte le relazioni, quindi tutta la parte discorsiva, in cui Nikon, o chi ha redatto il bilancio per Nikon, di fatto evidenzia alcuni aspetti fondamentali, come una forte contrazione del mercato, come avevamo detto in precedenza, e soprattutto un aspetto importantissimo, come quello che Nikon, attualmente da oggi e per il futuro, intenderà concentrarsi fortemente su quelle fasce di consumatori, quindi su quelle macchine più professionali, e soprattutto su quella fascia di consumatori, o su quelle fasce di consumatori, che sono disposte a spendere qualcosina in più, per ottenere appunto dei prodotti pro, e quindi dei prodotti molto più performanti rispetto a magari le semplici compattine, piuttosto che le bridge e così via. Altro aspetto fondamentale è che Nikon si è resa conto, devo dire anche finalmente, che comunque non è la sola e unica marca presente sul mercato, ma di fatto ha, diciamo, chiaro in mente come, essendo una delle protagoniste all'interno di un mercato tecnologico, quindi in continuo sviluppo, in continuo mutamento, deve prestare attenzione a quelli che sono i competitors, ed anzi, specifica chiaramente come è possibile che in futuro ci siano dei competitors che si proporranno sul mercato con dei prodotti di fatto molto meno costosi rispetto a quelli di casa Nikon, e quindi questo potrebbe essere veramente un cosiddetto business risk, cioè un problema, un rischio per la nostra società. Viene dato atto anche come il terremoto di Kumamoto abbia portato a, diciamo, delle gravi perdite dal punto di vista delle vendite, quindi un cosiddetto decrease, cioè un decremento delle vendite. Sottolinea anche come macchine quali la D750 e la D7002 siano due punti focali sul quale Nikon ha puntato molto e che hanno reso moltissimo alla società, quindi rispettivamente una full frame molto performante la D750 e l'ammiraglia delle APS-C dopo la D500, cioè la D7002, ok? Sempre una particolare attenzione deve essere prestata soprattutto a quello che riguarda tutta la parte dei beni materiali. Anche qui Nikon sottolinea come sia, diciamo, in possesso di brevetti, licenze e quant'altro e che ci tenga moltissimo a questo e quindi vigila sul fatto che nessuno vada, diciamo, a violare la proprietà intellettuale, bla bla bla. Però cosa molto importante che sostengo veramente da molto tempo è che comunque Nikon quest'anno compie il centenario, Nikon è un'azienda presente sul mercato da moltissimo tempo, Nikon ha un patrimonio immateriale veramente importante. Quindi attenzione perché Nikon, di fatto, basti vedere i flash, che è veramente la numero uno nella fabbricazione di flash, quindi Nikon di fatto non è circondata al proprio interno, poi non ha neanche tutti questi deficienti come si vuole far credere. Cioè ci sono degli ingegneri competenti che possono, e spero, andare a sviluppare nuove tecnologie e soprattutto spero riusciranno poi a far crescere in maniera molto diretta e forte Nikon, ok? Siamo arrivati però al punto fondamentale perché assieme ai documenti di bilancio ho scaricato anche questi due fascicoletti, sono semplicemente delle slide, niente di impegnativo, che però il consiglio di amministrazione di fatto, o chi per esso, ha voluto redigere per andare a risolvere due questioni molto importanti. Cioè, diciamo, un focus su quelli che sono stati i risultati dell'esercizio appena concluso e soprattutto un focus su quello che sarà il futuro, quindi un forecast per il 2017-2018 e soprattutto un business update and future strategic direction, cioè un focus su quello che potrà essere il business futuro e quella che sarà la strategia di implementazione dei vari segmenti e quindi delle varie strategie. Ecco, è proprio da questo che voglio partire, perché questo schemettino fornisce le quattro fasi su cui si baserà il rilancio e la ristrutturazione di Nikon che prevedono in una prima fase il lancio della ristrutturazione, che di fatto è già avvenuto, una seconda fase con l'aggiunta di iniziative e soprattutto il restyling di tutto quello che è il management della nostra azienda, fase tra l'altro già iniziata, abbiamo parlato prima di un primo restyling del corporate, quindi della governance all'interno dell'azienda con l'istituzione di un comparto R&D indipendente, cosa che prima di fatto non era proprio chiara e presente all'interno dell'azienda, e soprattutto una fase 3 dove abbiamo la realizzazione di quello che sarà l'aumento del management DNA, cioè verranno aggiunti altri soggetti nel management dell'azienda per cercare di migliorare le prestazioni. Poi avremo una fase 4 con una chiara ristrutturazione dell'azienda e con una strategia chiara da seguire che ovviamente sarà improntata allo sviluppo dell'azienda. In particolar modo questo tipo di ristrutturazione dovrebbe durare circa 3 anni, quindi nel 2019-2020 dovrebbe concludersi e ha come obiettivo quella di riportare il cosiddetto ROE, cioè il Return on Equity, ovvero sia un indice anche di redditività dell'azienda, circa all'8%, che vi dico, vi garantisco, è veramente un indice ottimo. Se ci riescono diventerà un'azienda molto molto redditiva la Nikon. Se ci riescono. Perché se andiamo ad analizzare, per esempio, i competitors, il ROE della Canon si attesta a 7,3, il ROE della Fujifilm a 5,59, la Panasonic che ce l'ha un po' più alto degli altri, 9,54, ma anche qui aziende come Panasonic e Sony diciamo sono molto più grandi della Nikon e soprattutto si occupano di tanti campi, e poi la Sony a 4,06. Quindi riuscire a portare un ROE, un Return on Equity, alla percentuale dell'8%, vi garantisco che è veramente una cosa eccezionale. Spero ci riescano in questi tre anni e chi vivrà vedrà. Ecco, per quanto riguarda tutto il comparto strategico di fatto, in questi anni Nikon ha deciso, per quanto riguarda ovviamente la fotografia, perché a noi ci interessa quello, di andare a lavorare sempre di più sulla profittabilità, in quanto hanno stimato che comunque il mercato delle macchine fotografiche è, diciamo, in continua compressione, c'è un continuo declino delle vendite e così via. E quindi loro giustamente hanno detto non riusciamo a vendere perché per questa situazione contingente nei mercati e a livello anche macroeconomico ci sono delle difficoltà, cerchiamo di lavorare sulla profittabilità, cioè vendo 10 macchine, ma da quelle macchine anziché ricavarci un ricavo netto di 5, ci prendo un ricavo netto di 8 e di fatto faccio coge e buca fa pari, perché vendendo meno macchine io comunque ho un ricavo maggiore derivante dalla vendita delle medesime. Ecco, quindi questa è la strategia che cercherà di seguire soprattutto Nikon in questi anni, per quanto riguarda ovviamente il settore imaging. Ecco, un altro aspetto un po' non tanto marginale, ma marginale per l'analisi che stiamo facendo e per i discorsi che vi ho fatto è sicuramente quello che riguarda lo Yen. La Nikon è un'azienda giapponese, purtroppo lavora in tutto il mondo e quindi lo Yen non è la moneta principale, ma come sappiamo è il dollaro o grosso modo anche l'euro. Ecco, i cambi diciamo che sono molto oscillanti in quest'ultimo periodo visti tutte le situazioni macroeconomiche, quindi la Brexit, Trump, il terrorismo, bla bla bla, diciamo ha portato a queste variazioni dei tassi monetari nel mercato del Forex diciamo molto accentuate e quindi diciamo molti dei profitti o delle perdere si giocano anche sui tassi di cambio tra Yen e dollaro ad esempio. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire semplicemente che in futuro se un tasso di cambio sarà favorevole a Nikon è probabile che si registrino nel bilancio di Nikon milioni o chissà, forse anche miliardi di maggiori utili o milioni o miliardi di maggiori costi. Quindi se tutto questo, se tutta questa ristrutturazione andrà a buon fine per quanto riguarda il comparto imaging sostanzialmente Nikon potrà beneficiare di una revisione dei costi aziendali con un aumento della profittabilità del comparto fotografia ma soprattutto dovrà andare a completare anche quella che sarà una revisione domestica dei costi relativi al lavoro. Quindi abbiamo parlato dei licenziamenti piuttosto che degli scivoli per agevolare l'azienda Nikon con minori costi relativi a salari piuttosto che minori costi in relazione a oneri previdenziali e quindi a consuntivo di tutto ciò spera Nikon di beneficiare di circa 20 miliardi di costi fissi in meno e vi spiego in poche parole cioè i costi fissi sono dei costi come dice la parola fissi che ci sono sempre che vanno comunque a incidere sul comparto aziendale nonostante che si faccia o non si faccia una determinata cosa esempio l'affitto di un capannone è un costo fisso perché indipendentemente dal fatto che io lo occupi e ci lavori alla fine del mese piuttosto che dell'anno piuttosto che del semestre non lo so dipende dal contratto io il canone locazione lo devo pagare questo è un costo fisso. Quindi abbiamo visto quelle che sono le caratteristiche economico-finanziare della Nikon e purtroppo secondo voi la situazione è messa bene o messa male? Sì, sì. Messa bene. No, oggettivamente se devo essere sincero non è così malvagia la situazione come molti la vogliono rappresentare oggettivamente Nikon sta passando un brutto periodo però ci sono degli indicatori che comunque ci consentono di capire che non è un'azienda messa male se sentiranno fuori un'altra mirone se fa cara che un'altra mirone si è collegata lo so spero che non facciano se non è un errore potete lo fare speriamo comunque cosa ne pensate voi? potete lasciare un commento nel video so che non è stato un video prettamente collegato alla fotografia però era giusto per chiarire una questione che purtroppo in questi giorni tiene banco su tutti i social e quindi vediamo come andrà a finire altro aspetto fondamentale è quello che avevo detto all'inizio video che ci sono delle voci che corrono dove la Fuji sembrerebbe non interessata ma invogliata dal governo giapponese a comprare le azioni Nikon ora è vero è falso in realtà questo tipo di notizia potrebbe essere collegato a un fatto che il governo giapponese vorrebbe che la Fujifilm cioè altra casa giapponese comprasse le azioni della Nikon per evitare che la Nikon sostanzialmente venisse spezzettata tra tutte altre proprietà di altri vari paesi e venga comprata dai cinesi con DJI per esempio DJI potrebbe comprare la Nikon DJI si sta buttando forte sai se DJI compra la Nikon e fanno i droni con gli obiettivi della Nikon e le macchine fotografie della Nikon sarebbe veramente la DJI l'apocalisse però DJI Sparkycon Sparkycon quindi la situazione ripeto non è delle più rose io non darei tanto peso a questa voce di Fujifilm interessata all'acquisto o meglio invogliata all'acquisto da parte del governo giapponese però come sempre chi vivrà vedrà perché giustamente non sappiamo cosa succederà domani non possiamo sapere cosa succederà fra 5 6 7 mesi e neanche fra un anno e così via guarda guarda ci vediamo al prossimo video lui è Niccolò potete andare a vedere il suo canale Crazy Ring Editing e fotografia te sei sempre un infiltrato mi infiltro nei video degli altri ci vediamo alla prossima ciao ciao ragazzi